La risposta di mille mani dei nostri ragazzi alla mano tesa dell'università, la big band del Bricialdi, affidata ad altre mani altrettanto magiche che sono quelle di Emiliano Rodriguez. Un concerto di giovani per i giovani che ci allieterà per tutta la serata, non proseguo ancora. A tutti quanti buon concerto e grazie ancora di essere presenti questa sera. In bocca al lume. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.